ciao a tutti in questo video da farmi vedere un po di cose non pensavo di mostrarvele perché sono c'è un po di tutto diciamo che è un video fritto misto c'è un po di tutto però siccome ho provato alcuni prodotti proprio cioè recentemente se sono negli ultimi giorni e mi sono piaciuti tanto voglio voglio assolutamente mostrarveli quindi andrò un po a caso c'è veramente di tutto delle cose di kiko poi ho delle cose di revolution o delle cose di milani insomma veramente un po di tutto parte di queste cose le ho comprate a parte ovviamente quelle di kiko le ho prese su manchi beauty avevo fatto un bell'ordine ci ho messo un po di cose e nove le voglio assolutamente mostrare e vedete anche il trucco insomma che mi piace tantissimo e vi faccio vedere come come l'ho realizzato cosa utilizzato allora partiamo da kiko smalti sono usciti dei nuovi smalti e hanno preso uno per tipo e per il momento ho provato solo questo qui guardate quanto è bello stupendo che è questo qua praticamente questi sono degli smalti traspiranti non ho capito bene cosa significhi nel senso qual è la differenza rispetto a uno smalto normale però devo dire che l'ho messo ieri sera ci ho messo pochissimo è veramente semplice da applicare rimane lucido non ho messo né top coat né niente né primer è veramente bellissimo il colore è veramente molto bello pensavo fosse un pochino più spento invece è veramente un bel viola lilla forse proprio il colore dell'anno perché è un lilla un po viola comunque bellissimo vi dico il colore se riesco 0 08 dovrebbe essere proprio un pennellino di quelli grandi arrotondato quindi è veramente facilissimo da applicare tra l'altro si asciuga anche in fretta non si è rovinato non ho avuto molta pazienza ad aspettare ma devo dire che si è asciugato bene non se neanche rovinato delle volte ci sono degli smalti che insomma li tieni e ti sembrano asciutti invece poi rimangono tutti i segni quindi veramente insomma mi è piaciuto molto come prima impressione è molto positiva poi ho preso questo blu invece questi sono i power pro nuovi colori questo blu che mi ha veramente stregata spero che sia bello come lo si vedete qua nella nella boccetta questo qui è il numero 234 sembra molto bello è un colore veramente con come lo vedrete sulle unghie prossimamente sarà il prossimo che proverò e poi ho preso uno di questi che vedete che ha il packaging tutto arrotondato questo si chiama perfect gel quindi è un altro tipo ancora numero 034 questo qui ha dei glitterini piccolini quindi ha questo colore adesso non mi ricordo come si chiama forse aloe comunque questo verdino e ha tutti questi glitterini piccolini oro argento beh anche questo con un bel pennellino di quelli larghi arrotondati anche questo sembra sembra bello non so mi ha attirato un colore un po diverso poi con questi brillantini credo che rimarrà anche lucido da provare anche questo poi ho preso uno dei dei lipoi degli oli quelli idratanti per le labbra e io ho preso il numero 05 che è questo qua ce ne sono diversi e questo qui colore non ne lascia praticamente praticamente trasparente però sì insomma è bello oleoso quindi idratante odore non ne ha rimane abbastanza idratante allora non mi è sembrato qualcosa di eccezionale qualcosa di particolarmente eh performante insomma è un olio labbra però insomma carino se non ne avete ecco dovete prenderne uno carino non male però siccome ne ho tanti questo non mi sembra il meglio insomma che ho poi ho preso un blush in crema questo che è veramente cioè incredibile io ho preso il numero 03 questi sono gli ultimate glow blush quindi blush in crema bisogna stare attenti quando si apre ci si sporca perché il basetto è pieno 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 guardate che bello è molto è molto liquido e ce n'è secondo me una quantità industriale perché se ne usano è molto pigmentato quindi ne bastano proprio tre neanche gocce cioè tre tre pallini fate tre pallini poi lo sfumate quello che ho adesso e c'è già qua c'era abbastanza per non so quante volte però mi piace un sacco questo colore guardate che bello poi non è lucido rimane comunque luminoso c'è brutto tempo eh il cielo è grigio quindi non credo che i colori si vedranno proprio così belli brillanti comunque è molto bello un po' diverso da come lo si vede qui secondo me rimane un pochino vedete un pochino più mi viene da dire quasi rosso qui è più viola più malva però è veramente bello e poi si cioè anche con le dita si sfuma molto facilmente poi ho messo sopra l'illuminante ho messo un po' di cose e quindi però mi piace mi piace molto si l'hanno fatto un pottino piuttosto grande che durerà veramente una vita sono 8,5 ml passiamo al agli ombretti mousse spottino questo questi ci sono già penso che siano comunque in gamma permanente forse hanno fatto di nuovi colori questo è il numero 10 io ne avevo già altri di questi ho fatto una ricerca devo dire tra i miei ombretti e non li ho trovati non so dove li ho messi ma sicuramente uno l'avevo preso quindi credo siano nuovi colori questo qui è nuovo nuovo non ho ancora usato è proprio morbido è proprio morbido è proprio morbido anche questo è molto pigmentato mi piaceva questo colore un po' sull'arancio che comunque dovrebbe far risaltare gli occhi azzurri poi vabbè uno ho voluto prenderlo io questi tipi di ombretti ormai li evito sia cremosi che liquidi perché non riesco tanto faccio fatica poi ad applicarli mi si stampano in giro adesso questi qui ve li farò vedere comunque vedete che un pochino si spossano sempre avendo le palpebre così poco spaziose diciamo però insomma ho voluto provarne uno mi è piaciuto molto questo colore è quasi arancio rame rame arancio bello bello lucido metallico direi metallico e ha questi riflessi dorati anche questo durerà una vita 4,5 ml la metà del blush mi piace il basetto arrotondato il tappino arrotondato carino mi piace poi sto usando le salviettine di Kiko è la prima volta che le uso queste e sono parecchio oleose le sento oleose struccano benissimo però le sento un po' mi rimane un po' come dell'olio sulle mani allora ultime due cose di Kiko pensavo di fare un video soltanto dedicato a queste cose però in realtà poi ho pensato anche per mancanza di tempo ecco fare più video poi se vi interessa qualcosa in particolare mi potete chiedere e comunque è un periodo in cui sto provando poche cose perché vabbè come sempre io sto in casa in chiusa esco poco però adesso le cose speriamo che si sistemino quindi magari qualche uscita in più riuscirò a farla però poi non sono stata tanto bene non ho avuto voglia di truccarmi quindi non ho provato molte cose per questo però insomma vi faccio vedere queste cose che secondo me sono interessanti allora ho preso un bronzer le scatole sono tutte quelle nere normali quindi niente di linea permanente ho preso questo bronzer che è il numero 101 packaging appunto normale con le belle ditate sopra ed è questo qui l'ho utilizzato adesso mi sembra bello scuretto cioè vederlo così sembra chiaro penso di aver preso il più chiaro non ricordo però poi sul viso è abbastanza scuretto abbastanza caldo e boh mi è sembrato di non so che si vedesse fin troppo non non dovrei neanche più essere troppo pallida perché un po' di sole lo sto prendendo fuori così quando facciamo abbiamo fatto anche giardinaggio settimana scorsa quando era sabato sabato che avevo dovuto tagliare la siepe insomma ci sono volute ore di di lavoro e quindi sole l'ho preso non sono pallidissima però mi sembra che questo qui sia ancora un po' scuro per me non so comunque è molto pigmentato e quindi vabbè magari tra un po' mi prenderò ancora un po' un po' di sole però insomma devo dire che scalda bene il viso poi ultima cosa di Kiko ho preso un illuminante si queste salviettine devo dire che sono oleose sono proprio oleose infatti vedo che lascio tutte le ditate sulle scatole sui prodotti dappertutto cioè sto lasciando impronte dappertutto vabbè illuminante ho preso il numero 03 si chiama Ultimate Glow cos'è bellissimo veramente è troppo bella la cialda guardate che lavorazione somiglia agli ombretti avevano gli ombretti che avevano questa la cialda fatta più o meno così erano anche tra l'altro pigmentatissimi non credo che esistano più però cos'è proprio bello sia da vedere che da utilizzare perché è più bello luminoso è proprio bello questo è luminoso si sfuma benissimo non fa le strisciate è proprio bello è proprio bello è proprio carino bello 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 se avete bisogno di un illuminante ve lo consiglio questo è proprio carino numero 03 tra l'altro si può usare anche per gli occhi illuminante viso e occhi quindi questa è una buona cosa magari per dare luce alla palpebra bene e con chicco abbiamo finito adesso vi faccio vedere cosa ho preso su maki beauty passiamo al fritto misso di maki beauty allora cosa vi faccio vedere per prima vi faccio vedere questi ombretti che sono stupendi sono quelli che ho usato per il trucco degli occhi allora marca Costanz Costanz Carroll ve lo faccio vedere qui somigliano un po' secondo me a quelli di color pop che sono degli ombretti incredibili hanno una scrivenza esagerata io ne ho alcuni sono stra vecchi perché li compravo anni fa quando insomma iniziavo così ad avvicinarmi al make up e mi erano sembrati la cosa più bella del mondo questi però hanno veramente secondo me quasi la stessa pigmentazione sono cremosi partiamo da questo rosa vi dico il numero se riesco questo è Turbo i27 meno male che ha scritto grande hanno una spugnetta protettiva questo addirittura è duochrome forse sugli occhi si vede poco ma veramente cremoso cioè guardate qua quanto è luminoso e non sto schiacciando tanto guardate che roba allora mettiamolo qui è bellissimo è bellissimo è bellissimo mi metto opposto perché vorrei che si rovinano ci metto subito sulla protezione allora passiamo al secondo questo qui è Turbo i44 44 si aprono proprio con i color pop questo non l'ho ancora provato ma guardate che che bel viola cioè sono cremosi è una roba cioè guardate questo questo sembra quasi ha un effetto quasi bagnato sembra addirittura bagnato bellissimo anche questo stupendo era un po' indecisa poi ho detto vabbè sto facendo l'ordine li metto dentro costano poco comunque non ricordo ma veramente poco e poi il blu che è questo questo veramente mi ha lasciato a bocca aperta è questo che è duochrome perché è blu però se lo metto così lo vedo viola quindi è comunque un blu viola anche questo sembra bagnato anche questo sembra bagnato eh cioè se lo metto così no è sempre blu comunque ha dei riflessi viola no sono veramente bellissimi bellissimi ho le dita un po' grandi ho fatto un po' fatica perché con il pennello non sono riuscita ad applicarli li ho applicati col polpastrello eh però ho fatto un po' fatica perché magari ho le dita un po' grosse un po' ciccione e quindi poi dopo ho cercato di sistemare un po' con il pennello qua nella piega ho messo un ombretto qualsiasi colore nude tanto per insomma per rifinire un po' il trucco però comunque questi sono proprio ombretti protagonisti volevo mettere quasi solo questo poi mi piaceva l'idea di fare rosa blu che stanno benissimo insieme quindi ho fatto così ma sono belli allora trovo però un difetto un difettuccio che aspettate lo chiudo perché guardate si seccano aiuto che stava fuori cadendo hanno un difetto che si quando quando si applicano si sbriciolano un po' ecco fanno un po' di fallout anzi più che fallout eh cadono proprio dei pezzettini quindi io avevo già fatto il trucco viso e devo dire che è meglio fare il contrario cioè nel senso magari magari anche mettere il fondotinta però non completare il trucco con blush con cipria blush ecco queste cose è meglio meglio prima fare il trucco occhi perché un pochino cadono questi pezzettini queste bricioline è di ombretto quindi poi dopo però con un pennello da cipria io ho ripulito un po' il tutto quindi poi comunque non si vede così a occhio occhio nudo non si vede se vado nello specchio quello 8x è ovvio che si vede tutto anche il più piccolo bruscolino che è caduto così non si vede quindi comunque non è una cosa così fastidiosa io dico che sono talmente belli che poi ne vale comunque la pena però si sono un po' adesso ce l'ho anche un po' sul vestito qualche briciolino ecco è l'unica cosa che si sbriciolano un po' e poi vabbè su di me si stampano ma è normale per il mio tipo di occhio è normale magari si può mettere un primer sotto e probabilmente aumenta anche la tenuta se ne può mettere anche di più e si diventa ancora più intenso però insomma questo è il risultato veramente sono bellissimi bellissimi e costano poco poi ho preso sapete che è un debole per physician formula mi pulisco questi se no riesco di sporcarmi tutta sono anche resistenti da togliere ma come sono queste salviette che sono così oleose non c'è scritto niente salviettine sul canti viso con tornocchi e labbra però non dice niente ma sono proprio oleose sono tanto oleose preferisco quelle di wicon che sono belle imbevute ma diciamo sono belle imbevute ma non lasciano olio olio queste sono proprio oleose però struccano benissimo certo con olio infatti tolgono anche i rossetti quelli no transfer quelli più resistenti allora di physician formula mi ha attirato questo bronzer con monoi a parte che la scatolina già è bella poi mi piacciono tanto i packaging di physician formula ho visto monoi ho detto vabbè questo che lo prendo eccolo qua è troppo carino con questi fiori profumo di monoi quindi sembra già di essere al mare in spiaggia quindi la cialdina anche qui disegnata la come si chiama il pennellino non è morbidissimo mi sembra anche piuttosto plasticoso proprio di plastica però vabbè non è che usarebbe forza questo c'è anche lo specchio no i prodotti di physician formula mi sono sempre piaciuti poi in realtà diciamo che ho fatto più ne ho presi diversi non li ho mai usati molto li tengo più per collezione però sono belli questo bronzer mi sembra più delicato rispetto a quello di Kiko è più chiaro butter bronzer vediamo se c'è no credo che non ci sia numero perché mi sembra che è l'unico mi sembra che sia l'unico water resistant matt sì credo che sia l'unico perché non vedo numeri comunque insomma carino mi piaceva e non l'ho lasciato lì ho deciso di prenderlo poi poi allora le faccio vedere ancora due prodotti viso poi passiamo ai prodotti labbra che ne ho diversi ho preso questo vabbè non ho resistito quando ho visto il gattino che festeggia non ho resistito è proprio carino è a rilievo è gommoso questo è sono gli sono quelli di iArt Revolution quindi sono quelli più carini i prodotti più carini della famiglia Revolution questo è Party Pets Highlighter questo è Archie è veramente carino infatti non l'ho preso tanto per il prodotto ma proprio per il packaging è troppo bello l'illuminante è questo qui che tra l'altro è un illuminante ma è un po' direi un po' scuretto è un ombretto è un tipo rose gold è un rose gold però lo vedo piuttosto scuro non voglio rovinare questo trucco però insomma non so quanto potrò usarlo come illuminante però magari anche come ombretto ma poi in realtà non è pigmentatissimo vedete che è abbastanza delicato sembra più scuro a vederlo qua quindi insomma però era troppo carino perché questi sono prodotti che costano poco quindi ci sta di fare insomma di regarsi qualcosa di simpatico poi ultima cosa viso una palette ho voluto prendere questa qua di revolution pro questa è la ultimate crystal palette de geveld e ne ho già altre due di queste però con colori più chiari più una su rosa e un'altra forse sull'oro questa è da un po' che la guardavo da quando è uscita e mi attirava il fatto che i colori sono piuttosto cupi sono freddi infatti alla fine l'ho presa questa è la cosa che ho pagato di più non mi ricordo quanto è abbastanza insomma non è proprio low cost costa un pochino di più ecco guarda che bello ha tutte queste pietre è molto pesante sono palette veramente fatte bene allora lo specchio è gigantesco non voglio abbagliarvi anche se non c'è il sole la metto così e vi abbaglia lo stesso è uscito un po' di sole in questo momento vediamo così se riesco ecco vedete mi piace perché ha questi colori abbastanza freddini poi ha questo verde che è qualcosa di insomma un po' diverso questo duochrome poi ci sono questi glitter dovrebbero essere glitter pressati poi capirò come si come si utilizzano però mi piaceva questi grigi questo un lilla scuro questo top lilla insomma mi ha mi ha attirato è un po' diverso da quelle che prendo sempre però mi piace la scelta dei colori e la proverò questi glitter guardate che belli sembrano cremosi bellissimi 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 vediamo cosa succede se proviamo belli molto belli questi però secondo me un pochino cadono sul viso ci vorrà magari una colla per glitter per essere sicuri però belli super luminosi sì glitter che rimangono un po' sì sì vedete mi è rimasta ancora tutta la mano brillante luccicante invece degli altri colori vediamo vediamo questi questo questo verde e questo grigio che mi piace bello questo grigio sembra un bronzo bello un po' forse un po' invernale come palette adesso andiamo sui colori belli vivaci belli accesi però io la trovo veramente molto bella mi non cava proprio la guardavo ogni volta che andavo su anche sul sito di revolution mi capitava sempre sotto gli occhi dicevo ma no tanto ne ho altri due poi alla fine l'ho presa poi su mcky beauty c'era sì c'erano delle promozioni poi comunque ho trovato un codice invece riesco sempre ad avere il 10% anche se non ci sono altre promozioni quindi insomma qualcosina riesco sempre a risparmiarla però è veramente bella sono piena di glitter e i glitter vanno in giro però diciamo che è abbastanza normale sono proprio glitter tessati penso che siano dentro una gelatina perché comunque rimangono belli insomma sul dito rimangono ben attaccati però certo che dopo vanno un po' in giro quindi via questi passiamo ai prodotti labbra allora i prodotti labbra sono stata attirata da questo rossetto di questa marca che si chiama Technique Technique stavo vedendo dove è scritto ma si chiama Technique fidatevi qua c'è scritto qua non credo si veda perché mezzo tutta questa plastica Technique che non è Real Technique è un'altra cosa è un rossetto molto molto di plastica ha tanta plastica è bello solido ma di plastica però mi ha incuriosito e io ho preso questo colore che si chiama In The Buff credo che sia proprio il suo il nome di questo colore ed è questo qui Nude non si capivano benissimo i colori sul sito sono andata un po' così a a impressione mi sembrava che fosse nude mi sembrava un colore delicato ho detto proviamo sembra molto lucido dopo vi dirò di questo però mi sembra che agli angoli sbama un po' allora vediamo com'è bello 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 non è neanche troppo chiaro tenevo fosse troppo chiaro invece direi che è bello un bel nude tende al malva comunque bello mi sembra proprio scorrevole mi sembra ben pigmentato quindi già ho fatto con una passata è bello è bello omogeneo cremoso non l'ho provato sulle labbra però insomma a vedere così mi sembra comunque buono si chiamano nude edit con vitamina e nude edit qua c'è scritto with vitamina e sentiamo se ha un profumo un profumo delicatissimo poi mi ha incuriosito questo nuovo rossetto questo è di l'oreal non so perché sono attirata dei rossetti fatti così non so ce ne ho di tutte le marche che è un po' come quelli normali perché sempre il packaging questa questa ghiera dorata insomma di quelli soft touch colore 603 Intense Volume Matte si chiama fatto così tondo anche qui tra i colori che c'erano mi ha ispirato questo qui ma sono cose che comunque su Mac Beauty finiscono subito non so durano veramente poco le novità meglio per loro vuol dire che vendono tanto però le novità durano veramente poco bisogna essere sempre pronti lì a vedere il momento in cui vengono messi sul sito altrimenti si perdono questo somiglia un po' a questo qui forse è un pochino meno omogeneo vedete che sembra più scuro al centro ed è più marrone rispetto a questo qua è più marrone mi sembra sì un po' meno omogeneo però anche questo da provare sulle labbra mi piacciono questi tondi piccoli perché sono facili da applicare più semplici è più semplice anche senza una matita comunque si riesce a fare bene il bordo delle labbra anche qui profumo niente non sento niente però mi ha incuriosito guardate le salviettine che mi hanno unto le mani e sto spargendo olio dappertutto no se non vi piace l'olio se non vi piace la sensazione oleosa compratelo poi ho preso tre rossetti di Milani guardate quanto sono belli i packaging sono bellissimi questi qui io non so se ci sono ancora anche questi secondo me sono nati a ruba sono finiti subito sono riuscita a trovare questi infatti non sono proprio colori questi sì mi piacciono questi qui non sono proprio colori che mi piacciono tanto però non c'era altro quindi siccome volevo provarli mi ero incuriosita sono arrivata a un compromesso ho detto prendo quello che c'è e allora questo qui è il numero 430 secret questo forse è un po' chiaro guardate come vellutato proprio vellutato vediamo lo metto qui bello però morbidissimo guardate che coprenza con una sola passata omogeneo coprente bello almeno a vedere così sulla mano sembra veramente bello ma anche il colore non è male alla fine chiaro ma insomma più chiaro di questi però non è chiarissimo quindi penso che potrebbe starmi bene con un trucco così naturale io ho anche l'impressione che questi si asciugano e rimangono bene resistenti sulle labbra tra l'altro sono made in italy e la cosa ci fa molto molto piacere poi questo qui vediamo questo è il numero 360 dalia questo dovrebbe essere più diciamo di quelli che mi piacciono che di solito mi piacciono tanto lo metto qui ormai ho le mani piene uh che bello è molto scuro molto scuro però bello è un po' ecco questo qui vedete che è un po' è un po' come questo qua è un po' più scuro al centro non è proprio forse omogeneo ma è molto scuro è molto pigmentato e veramente subito lascia il colore però è bello questi rosati mi piacciono molto bello cupo bello bello mi piace anche questi non hanno hanno forse un leggerissimo odore ma non niente di particolare comunque i packaging sono veramente belli poi questo qui che dovrebbe essere diverso un pochino più leggero comunque diverso vedete questo qui è sezione tonda quindi questo è il numero 170 kink questo è un po' diverso guardate che colore lo metto da questa parte ah questi sono questo è sheer è di quelli lucidi di quelli tipo balsamo labbra ecco è tipo un balsamo labbra però lascia un bel colore ma è molto scorrevole lucido abbastanza trasparente questo è proprio sono sicura che questo idrata bene le labbra carino carino ho voluto provare anche questo che è proprio morbido questo col caldo mi sa che un po' si scioglie vedete un po' è andato un po' sul bordo questo soffre il caldo devo tenerlo a fresco poi ultimi rossetti poi mi hanno regalato qui ci hanno regalo questo questo rossetto liquido di milani ora è mattallix questi non sono nuovissimi forse ce l'ho già non ho controllato mi ricordo quando erano usciti ne avevo preso uno forse è proprio questo colore vediamo c'è scritto 07 si 07 ed è credo proprio metallico non l'apro perché non voglio che si secchi subito comunque io quando mi fanno regali sono sempre contenta poi ho scovato questi rossetti li metto alla parte giusta questi rossetti di v7 v7 vediamo se ve lo vedete v7 che fa tutti i dupe io ho delle palette di v7 che sono dupe di altre e guardate qua vi ricordano qualcosa? praticamente sono uguali a questi di Uda Beauty infatti quando li ho visti ho detto no questi che li devo provare cioè sono proprio la copia cos'è questo? mi sono pasticciata sono proprio la copia di vabbè ovviamente qua c'è scritto Uda Beauty qua c'è scritto matt c'è scritto major matt giustamente però sono veramente simili e questi di v7 non sono non hanno chiusura calamita mentre questi di Uda sono un pochino più pesanti hanno chiusura calamita poi altra differenza questi qui di v7 non sono vellutati vi faccio vedere proprio la differenza vedete questo qua di Uda è proprio vellutato sono dei rossetti vellutatissimi anche solo a guardare infatti mi anche solo a guardare mi fanno impazzire sono troppo belli questi sono lucidi è quello che sto indossando è proprio questo qua e sono lucidi quindi sicuramente il finish è diverso come odore niente di particolare vi faccio vedere allora questo qua di Uda ops e questo qua di v7 allora vederli così sulla mano sembrano proprio simili questo qui è l'U7 e questo è quello di Uda vedete che poi alla fine non sono tanto diversi come finish anche il colore si somiglia tantissimo però quelli di Uda rimangono comunque più vellutati però vedo che come pigmentazione come scorrevolezza sono anche comunque molto confortevoli sono molto simili quindi insomma questi costano decisamente meno poi vi faccio vedere gli altri colori anche sui colori ho avuto un po' difficoltà a scegliere perché non sono proprio sul sito non è che sanno proprio così chiari quindi insomma questo qui è il house red quindi ha un rosso e rimetto di qua questo punto così ma sono veramente scorrevoli e molto pigmentati guardate questo proprio rosso beh giustamente non sono proprio identici a quelli di Uda insomma ci mancherebbe però direi che sono una bella copia questo è sempre un rosso numero 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 no non c'è numero si chiama entourage entourage quello che sto indossando che poi è appunto questo si chiama ma her 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 the c'è una roba del genere e non si vede ho scritto hert come cuore a che hert a che per farvi capire quindi questo rosso questo rosso però è più fragola questo è proprio rosso rosso questo invece c'è anche di di fucsia e poi l'ultimo questo qui che è bond girl bond girl vediamo li sto provando con voi la prima volta non li avevo ancora provati che era questo qui ed è questo questo giusto ho fatto uno sguardo un po' brutto questo e anche questo qui e questo forse ancora più più rosso fragola può essere anche anguria rosso anguria sono comunque tre rossi diversi quello e mezzo forse quello che mi piace di più perché è un po' più un po' più un po' più fucsia comunque sono belli sono dei bei rossetti vedete adesso ce l'ho questo ce l'ho su da poco non è tantissimo che mi son truccata però comunque già sento che è veramente confortevole non mi sta dando fastidio per niente è morbido sulle labbra ecco l'unica cosa che forse avete visto anche voi che negli angoli mi faceva si accumulava un po' il colore sbavava un po' però per il resto devo dire che tanto si è asciugato adesso sicuramente non sono transfer però insomma secondo me non sono per niente male veramente sono sono veramente dei rossetti interessanti un'altra copia di dv7 direi ben riuscita ok vi ho fatto vedere tutto questo video sarà lunghissimo io spero che non vi annoi infatti non pensavo che che fosse così lungo volevo farvi delle cose forse mi sono dilungata un po' però vabbè io spero che vi faccia piacere stare in mia compagnia non so se riuscirò magari un po' a accorciarlo però stamattina sono da sola finalmente dopo non so quanti mesi sono veramente da sola in casa quindi posso parlare come voglio mi sento libera di fare i miei video quindi per il momento è tutto fatemi sapere se questi prodotti vi piacciono vi interessano io vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando non mancate vi mando un bacio ciao